Oggi chiudiamo dopo la bellissima candela di venerdì con un ritracciamento che ci sta anche, a mio parere il business dell'azienda è molto sano e la sua posizione di preeminenza secondo me la rende un titolo che è carino avere in portafoglio, anche in un momento non bello per le azioni come questo. Il supporto di 821 è molto importante, ci passano delle chiusure dei massimi delle ultime poche candele che abbiamo e lo ritengo un segnale su cui postare la massima attenzione anche in vista delle prossime sedute, nelle quali però spero che le borse possano far vedere, magari anche a partire da domani, un tentativo di reazione che se fosse impulsivo sarebbe da prendere con le molle, se fosse sterile e fragile sarebbe da prendere con la giusta delicatezza perché oggi a mio parere, anche considerando i volumi forti che sono passati sui mercati, oggi è una giornata veramente che depone male per tutta la settimana, un rimbalzo ci sta, ma direi di essere veramente prudenti perché stanno franando dei livelli importanti.